Al via il primo dottorato europeo sulla criminalità organizzata sarà coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia. Domani il tavolo operativo con le università di Tirana, Vigo, Lussemburgo, Praizen e quella della città martoriata di Kharkiv. L'ambizioso progetto coinvolgerà studenti provenienti dagli stati partner e sarà itinerante. Abbiamo messo in rete alcuni degli atenei dei paesi che si trovano lungo la rotta dei traffici illeciti, ha commentato la professoressa Curtotti. Così possiamo concentrare e ottimizzare le esperienze, formando al meglio i giuristi europei del futuro. Il dottorato coinvolgerà in maniera attiva e diretta anche gli studenti provenienti dagli atenei partner dell'Università di Foggia, già che sarà di natura internazionale e soprattutto di spirito itinerante, permettendo ai vari dottorandi di conoscere altre realtà giuridiche e criminali. Stati membri, agenzie e organi investigativi, apparati di prevenzione del crimine e altri attori istituzionali dell'Unione Europea collaboreranno a questo obiettivo. L'Italia, proprio per aver provato sulla propria pelle le conseguenze che queste organizzazioni sono state in grado di produrre nel tessuto sociale, politico e economico del paese, nei decenni si è dotata di un apparato normativo di contrasto alla criminalità decisamente all'avanguardia, un sistema di norme e strutture che può essere il paradigma per la predisposizione di strumenti analoghi a livello sovranazionale. Grazie.